E' stato depositato dal gruppo consigliare del Partito Democratico presso l'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale di Arezzo un atto di indirizzo con la proposta di una cartellonistica che favorisca, specie ai mezzi di soccorso, di trovare agevolmente le abitazioni. Entra nello specifico il consigliere comunale Giovanni Donati. Sì, il progetto è del 2018 che è stato attuato dalla Proloco Magnoro, quindi è un progetto pilota che abbiamo ripreso per proporre all'amministrazione comunale che venga esteso questo progetto di cartellonistica aggiuntiva per l'individuazione nelle frazioni delle abitazioni che molto spesso trovano difficoltà a essere individuate dai mezzi di soccorso. Questo progetto è piuttosto semplice, è di poco costo da parte dell'amministrazione, ci auguriamo che venga approvato l'atto di indirizzo e che le frazioni abbiano, come il Bagnoro, i loro cartelli per essere più sicuri e individuati rapidamente da mezzi di soccorso o da altre figure che hanno necessità di arrivare alle abitazioni. All'epoca, nel 2018, ci fu l'appello del responsabile del 118, Massimo Mandò, è un appello che però è caduto nel vuoto. È un appello alla presentazione del progetto che ci fu nel 2018 presso i locali della Proloco Magnoro. Il dottor Mandò chiese espressamente che l'amministrazione valutasse l'ipotesi di estendere questo progetto perché l'efficacia e la rapidità per i mezzi di soccorso nell'individuazione delle case, in questo caso della località di Bagnoro, era realmente molto più semplice rispetto a poco prima che venissero installati i cartelli. Con soddisfazione, in primis per la Proloco Magnoro che ha attuato questo progetto, ci sono stati casi che realmente i cartelli hanno salvato la vita a delle persone della località. Un altro aspetto molto importante da non sottovalutare è che con la posizione dei cartelli non c'è bisogno di nessun costo per i cittadini che per quanto riguarda il cambio di documenti non c'è nessun bisogno. Quindi questi cartelli hanno solo la funzione di essere comunicati all'interlocutore che viene chiamato semplicemente dando il numero del cartello e i cartelli sono tutti georiferiti quindi in tempi brevissimi possono essere raggiunte anche abitazioni che fino a poco tempo fa avevano difficoltà.